E buon pomeriggio. Avete fatto il caffè? Facciamo insieme le ciambelline, le ormai mitiche ciambelline. È stata la prima ricetta che avete seguito con tanto affetto e tanto amore, tant'è vero che il contatore di Facebook si è fermato a 3 milioni di visualizzazioni, oltre non è andato. 3 a 4 milioni, 3 milioni e 927 mila visualizzazioni. Allora, iniziamo a fare le ciambelline. Allora, in questa ciotola ho messo la farina. La farina, in questo caso, è meglio usare la farina tipo 0, metà 0 e metà Manitoba. Però, alla farina uniamo le patate bollite. Non vi preoccupate, le dosi sono tutte nel link che abbiamo messo nel post. Ora pensiamo a come fare le ciambelline, poi le dosi le leggete. Allora, farina, patate bollite, mi raccomando, fredde. Non devono essere calde. E soprattutto il peso delle patate è da bollito. Bollite con la buccia, non già a tocchetti, perché se le fate a tocchetti assorbono più acqua. Quindi, bollite e fredde. Pesate già da bollite. Ok, qui ci sono le patate e la farina. E le uniamo. Così. Ora, qui avevo messo già un pizzico di sale, esattamente 5 grammi. Ora uniamo la buccia del limone. Questo è un limone bio, già lavato, senza trattamenti. Ok? Vedete quanta buccia di limone ho messo? Ne ho messa parecchia. Una bustina di vanillina. Naturalmente, se avete la vaniglia, è meglio. Però, noi abbiamo la vanillina e ci accontentiamo della vanillina. Aggiungo l'uovo. Io sto facendo mezza dose di quella che vi ho scritto. E aggiungo il lievito. Allora, siccome la difficoltà che molte di voi hanno riscontrato è stata quella di sciogliere il lievito nei liquidi. Perché poi mettevano troppa acqua o troppo latte. E quindi gli veniva un composto troppo morbido. Io vi sto facendo vedere come fare senza liquidi. Quindi metterò il lievito direttamente nell'impasto. Vedrete che non succederà niente. Poi vi sezionerò l'impasto. Non ci sarà il lievito a pezzi dentro. Diciamo, si riesce a sciogliere. Questo è il lievito. Allora, questo è il lievito fresco. Se usate il lievito secco, usate metà del peso di quello fresco. Quindi se questi sono 10 grammi, usate 3, 4, 5 grammi. La ricetta, come vedete, prevede anche il burro. Però il burro va aggiunto alla fine. Non va sciolto. Non va fatto niente. Va solamente tenuto una mezz'oretta a temperatura ambiente. E basta. Vedete? L'impasto si sta già formando. Del lievito non c'è più traccia. Si è sciolto. Spero che si veda bene. E adesso iniziamo ad aggiungere il burro. Prima assorbiamo tutta la farina. Qui c'è il burro che, come vedete, è morbido. Perché è stato a temperatura ambiente. Uniamo qualche pezzettino alla volta. L'impasto. Che aggiungendo il burro, l'impasto è sudo. Non è affatto morbido. Perché non ho aggiunto nessun tipo di liquido. Ora facciamo assorbire bene il burro. E poi mi trasferisco sul piano. Prendo adesso l'impasto. E lo trasferisco un attimo qua. Questo lo metto qua. E lo lavoriamo un po'. Ma come vedete, allora, vi voglio far vedere che, se avete dubbi, non c'è lievito. Non l'ho ancora lavorato. Vedete? Non c'è lievito. È stato subito. Si è sciolto tranquillamente. Quindi lo potete fare anche voi. Ora facciamo così. Non c'è bisogno di maltrattarlo tanto. Così. Portiamo dai lacchi al centro. E basta. E questo è l'impasto delle ciambelline. Come vedete, è sodo. Non appiccica alle mani. Io dico sempre appiccica per far capire bene. Vedete? Anche se ho messo un po' di calina, non si attacca alle mani. Quindi, è già pronto per andare a lievitare. Allora, l'impasto noi lo prendiamo, lo mettiamo in una ciotola. Facciamo un taglio a croce sull'impasto. E lo mettiamo a lievitare. Quando l'impasto è lievitato, quando della croce non c'è più traccia. E quindi l'impasto è lievitato. Ora, siccome io non potevo fare tre impasti e quindi avere tre preparazioni, facciamo finta che questo sia lievitato. Facciamo che per magia è già lievitato. È lievitato, è già lievitato. Lo prendiamo e vi faccio vedere come formare le ciambelline. Sto dicendo che facciamo finta che l'impasto sia lievitato. Questo deve lievitare in un posto caldo, non eccessivamente caldo. Nel forno va benissimo, spento. Ci vorranno di questo periodo circa due o tre ore. Si è lievitato. Ripeto, facciamo finta. Prendiamo un pezzo di impasto, facciamo un grotolino, un cordoncino, come lo volete chiamare. Stai inquadrando? Sì. E lo chiudiamo su se stesso così. E abbiamo fatto una ciambellina. Questo naturalmente adesso non è lievitato. Vi faccio vedere la differenza con questi che invece sono lievitati. L'impasto era già lievitato e sono pronti per essere fritti. Ok. Nello stesso modo, per fare le ciambelline, potete anche stendere l'impasto col matarello, copparlo, con una bocchetta di sac a poche, oppure con il tappo di una bottiglia, con qualcosa di piccolo. fare il buco al centro e far lievitare le ciambelline. Ora, queste sono le ciambelline che ho preparato stamattina. Vedete come sono ben lievitate? Allora, prendiamo un pezzettino e vediamo se il nostro impasto è pronto. Adesso si è attaccata le mani e andiamo qui. Se il nostro olio è pronto. Sì. Ho preso una carta a forno che ho utilizzato per fare un'altra preparazione, perché mi dispiace usare la carta a forno nuova per buttarla. Io la metto nell'olio così e poi vedete che fra un po' la carta a forno non si brucia, quindi state tranquilli, non si brucia. Vedete come va piano piano? Però vi voglio far vedere che anche senza carta a forno potete farlo. Quindi, adesso io non ho messo farina, brava Graziella, però anche se mettete un po' di farina, anche senza carta a forno potete farlo tranquillamente. Ora vediamo se riusciamo a far venire quella bella riga bianca. Come vedete la carta a forno si stacca, non si brucia e non succede niente. La mettiamo qua. Vedete come stanno gonfiando? Fra un po' le giriamo. Allora, fra un po' le giriamo e vi faccio vedere come saranno belle. Giro. Vedete che si è formata la riga? Non so se si chiama riga, come si chiama cerchio, come si chiama. Ora, io le metto qui per togliere l'olio in eccesso. Nel frattempo che queste stanno qui, io vi faccio vedere che adesso le metto quattro e non succede niente. Una. Occhio a quando mettete le ciambelline nell'olio, non vi fate male. Tre. e quattro. Ora, una volta cotte le ciambelline qui, voi ridete, chissà che cosa state dicendo, le passate così, mi raccomando, togliete l'olio in eccesso, altrimenti lo zucchero si impregna di olio e poi non lo potete utilizzare più. E le mettiamo qui. Guardate che bella. Spero che si veda. Sì. Bene. Allora, stavamo dicendo gli ingredienti. Abbiamo detto farina, patate bollite, buccia di limone, vanillina o vaniglia, le uova e alla fine il burro, un pizzico di sale e un pizzico di zucchero e alla fine il burro. Se avete un tipo di lievito secco, granulare, a grana grossa, utilizzate proprio un goccio di latte o un goccio di acqua per sciogliere il lievito. Non di più, perché le dosi sono talmente perfette che andiamo a sbilanciare l'impasto. Questo è tutto. Queste sono le ciambelline pronte. Adesso io le avvolgo nello zucchero. Vorrei farvi vedere come sono leggerissime. Ora ne apriamo una. Guardate, l'impasto è filante. Sofficissimo. Sofficissimo. Buon pomeriggio e grazie della compagnia.